Questa mattina in Piazza Erbe a Riva si è svolto il comizio elettorale del leader della Lega Nord, Matteo Salvini. Accompagnato dai senatori del Trentino e dal candidato sindaco Santorum, sostenuto dalla Lega Nord, davanti ad un discreto numero di militanti, ha parlato delle classiche tematiche legate alla sua battaglia politica, come immigrazione e spesa pubblica. Un discreto dispiegamento di forze di polizia era presente per scongiurare eventuali forme di protesta da parte di altre forze politiche antagoniste, come si poteva temere, ma tutto invece affinato liscio.